Ben trovati cari telespettatori a una nuova puntata di Unica Talk Monza. Oggi ci spostiamo a Lentate sul Seveso per scoprire e approfondire un'iniziativa speciale, il marchio Made in Lentate. E lo facciamo con il sindaco Laura Ferrari, ospite da noi oggi. Buonasera, buongiorno. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei. Ecco, di che cosa si tratta? Voi, lei e la sua amministrazione avete fortemente voluto questo progetto, ce lo spiega? Sì, è stato un progetto nato dal confronto con i cittadini, in particolare con gli imprenditori. Io ricordo, era l'autunno del 2021, eravamo all'inaugurazione di una nuova sede dell'azienda e parlando col titolare mi ha fatto presente che il nostro territorio è davvero molto ricco di grandi potenzialità, non solamente in campo imprenditoriale, ma anche a livello di infrastrutture, di offerte appunto del verde, sportivo, da un punto di vista culturale e proprio lui, imprenditore molto lungimirante, che io stimo molto, mi ha detto sarebbe bello che la politica si ponesse come obiettivo quello di valorizzare e di rappresentare l'unicità delle nostre terre, dei nostri luoghi, in modo tale che queste diventino un volano per l'economia locale e non solo per l'economia, proprio per la società in generale. Così ho preso questo spunto veramente molto interessante, abbiamo fatto un bando, un bando che è arrivato a livello nazionale dove era veramente molte adesioni, gli uffici poi hanno selezionato una società di Milano molto quotata nell'effettuare questa, nel creare questo brand, questo marchio territoriale, anche se forse chiamarlo semplicemente brand o marchio è limitativo rispetto al progetto che noi vogliamo portare avanti e così adesso siamo all'inizio di questa avventura che sicuramente è stimolante, sicuramente ci carica di grande responsabilità, ma che sono abbastanza certa che se sapremo portare avanti con la giusta serietà, con l'impegno, con la passione che non sono necessari, non sono solo necessari ma ci caratterizzano per il nostro lavoro, io penso che potremmo fare grandi cose. Detto in due parole, anche se ripeto non è semplice spiegare in poco questo concetto, l'idea è quella di prendere quei 4-5 elementi che caratterizzano l'entate prima di tutto, ma successivamente direi anche l'abrianza, quindi l'idea è quella anche di esportare queste idee a livello extra locale e quindi arrivare al punto di caratterizzare appunto tale di generare curiosità attorno al nostro territorio e così la conoscenza e la pubblicizzazione appunto dei nostri luoghi farà sì che ci sia un'attrazione dall'esterno e lo scopo finale qual è evidentemente quello di portare lavoro, di portare investimenti e perché no di portare persone che possano divertirsi, vivere il territorio ed eventualmente anche abitare. Tra le attività che aderiscono al Medi allentate è quella fondamentale, allentate della produzione del legno e dell'arredo e su questo allentate c'è una filiera mi viene da dire che parte proprio dalla formazione, mi riferisco all'Artwood Academy, a febbraio il ministro Giuseppe Valditara ha visitato l'Artwood Academy, facemi una visita che si colloca nell'ambito della linea governativa di voler proprio potenziare gli istituti professionali, sono stati 500 milioni, sono stati istanziati. Ecco io vorrei leggervi quanto, mi sono portato un foglietto per essere precisa, quanto è scritto sul decreto ministeriale. Potenziare gli ITS è un cambio di passo nell'avvicinare l'istruzione e la formazione con le professionalità che il tessuto produttivo dei territori offre e di cui necessita. L'ho letto perché in questo senso mi sembra che l'entate sia proprio un modello, insomma quanto è importante la formazione per le aziende di lentate e c'è bisogno, c'è domanda di operai, di persone, di personale specializzato in questo senso? Allora Artwood Academy che fino a un anno fa, fino al Salone del Mobile del 2022 si chiamava Polo del Legno, però ho avuto questo nome perché è voluto dalla fondazione che lo cura proprio per dare un'ulteriore importanza a questo progetto. A me sta molto a cuore, a tutta la mia amministrazione sta molto a cuore, tant'è che il progetto nacque quando io ero assessore nel 2010-2011, quando ci fu un'idea dell'allora sindaco di istituire, di dar forza, di dare un luogo agli istituti professionali nell'ambito del legno arredo, perché come diceva giustamente lei rappresenta una filiera essenziale dei nostri luoghi e del nostro territorio. Ecco, nacque da quella che sembrava un'idea, un sogno, perché effettivamente appariva qualcosa sicuramente di ambizioso come oggi poi è il nostro marchio ed oggi è una bellissima. In realtà i locali prima si trovavano nell'ex deposito delle ferrovie ed oggi hanno questo luogo, io non so se voi siete mai stati a visitarlo, ma ve lo consiglio perché ci andremo in questi luoghi, ma davvero vi porto, molto volentieri, vi accompagno più che volentieri, perché entri e respiri l'idea di futuro, l'idea di operosità, l'idea di una gioventù che ha voglia di fare ed è questo, giustamente come diceva, quello che ci chiedono gli imprenditori, perché è vero, c'è un messaggio che io vorrei dare e con loro mi sono confrontata molto con i titolari delle più grosse aziende della nostra Brianza, che stanno lavorando molto e hanno fatto molto per il Polo del Legno. Purtroppo c'è una sorta di snobismo intellettuale, anche culturale, che pone gli ITS e gli istituti tecnici come qualcosa di secondario rispetto alla formazione superiore tradizionale, mi riferisco in particolare ai licei. Però quello che ritengo fondamentale è un'operazione che anche il Ministro ha concordato molto che sia necessario fare, è far capire alle famiglie e agli studenti che la formazione, gli studi tecnici oggi sono degli studi di serie A. Perché? Perché formano a 360 gradi, basti pensare ai corsi che ci sono all'Artwood e davvero c'è l'imbarazzo della scelta, oserei dire, ma soprattutto trasformano dei ragazzi in uomini che già alla fine del primo percorso di studi, quindi senza andare al secondo, sono già in grado non solo di collocarsi in modo molto agile e fattivo nel mondo del lavoro, ma anche di essere autonomi e di poter iniziare a pensare al loro futuro in modo molto concreto, scevro magari da quelli che sono delle ambizioni che molte volte però vengono tradotte in una realtà non all'altezza. Manca un po' il saper fare. Sì, e questo per fare invece quello che, come diceva giustamente lei, le imprese chiedono, pensate che il 98% di chi esce dal polo del legno, dall'Artwood, trova un contratto a tempo indeterminato subito e ci spiegavano e spiegavano al Ministro, il Presidente del Polo e il Direttore Generale, che c'è una richiesta di 200 persone, quindi studenti, che escono che è rimasta in evasa, nel senso che non hanno sufficientemente un personale formato che ha terminato il percorso di studi per far affronte alle richieste delle imprese, quindi è un dato su cui davvero, davvero dobbiamo ragionare, che da un certo punto di vista per le imprese rappresenta un limite perché non hanno personale sufficiente. Dall'altro punto di vista per le famiglie e i giovani che vogliono introdurre e lavorare in modo concreto per il loro futuro, rappresenta sicuramente un obiettivo su cui puntare per il loro futuro. Grazie, grazie Sindaco. Ecco, io non posso non approfittare avendola qui per chiederle anche della Pedemontana, che è molto discussa, un tratto della Pedemontana passerà anche da Alentate, qual è la sua posizione in merito? Allora, noi devo dire che da questo punto di vista stiamo facendo squadra, sistema, diciamo con tutti e cinque i sindaci della Tratta B2, Tratta B2 che è una delle più controversie di tutta Autostrada Pedemontana, quindi i nostri comuni sono Medas, Meda, Cesano, Barlassina, Seveso e Bovisio. Stiamo lavorando molto bene insieme, devo dire. Abbiamo chiesto appuntamento all'assessore che presto si insedierà delle infrastrutture perché vogliamo portare avanti tre concetti molto semplici e davvero lo vogliamo fare con molta concretezza. Uno è quello sicuramente della cantierizzazione che deve essere fatta nel rispetto di quello che è la viabilità non solamente della Milano-Meda ma anche locale dei nostri comuni. Due, un attento studio delle tempistiche che riguardano la viabilità, diciamo così, connessa, complementare. Un approccio molto concreto rispetto a quelle che sono le compensazioni ambientali perché il decreto Cipe del 2010 aveva già messo a favore dei comuni, stanziato delle somme molto precise. Ecco, ogni comune adesso deve lavorare con Pedemontana per dare concretezza a quelle previsioni che oggi sono semplicemente economiche e poi c'è il tema, il grande tema, quello che preoccuperà molto tutti, che è quello del pedaggio perché ovviamente la grande preoccupazione e i flussi di traffico che si sono immaginati la confermano perché è inutile nascondersi dietro il dito. Qualora una strada che oggi è libera, non a pagamento, dovesse diventare un'autostrada a pagamento sostanzialmente da un giorno all'altro, è chiaro che la tendenza di chi la farà normalmente sarà quella di riversarsi sulla viabilità locale, quindi sulla strada nazionale. È un rischio che non possiamo correre, quindi pur consapevoli che esistono dei piani economici che non possono essere superati dalla sera alla mattina, noi come comune di Lentate abbiamo promosso un progetto che è quello dell'isopedaggio, sostanzialmente immaginare delle tariffe per cui se si entra a nord o a sud non cambia niente per l'utente. Giusto perché l'abbiamo fatto? Perché pur non essendo noi come politici dei tecnici però abbiamo capito quello che può essere un problema, abbiamo colto l'esperienza di altri territori e l'abbiamo messa sul tavolo. Siamo in attesa che con la nuova giunta si possa ragionare ma siamo certi che essendo un tema caldo, essendo un tema storico ci sia l'interesse da parte di tutti a non pesare ulteriormente sulle tasche non solamente delle famiglie ma anche di chi lavora tutti i giorni e si sposta da Milano alla Brianza per farsi insomma che si risolva il problema in modo civile e con soddisfazione di tutti gli attori che stanno... Grazie Sindaco, siamo in chiusura. Una domanda velocissima. Altri progetti importanti per il 2023? Ce li nomina proprio? Sicuramente tutti quelli legati al PNRR, quindi la riqualificazione completa dell'asse principale della via nazionale e poi sempre nella zona del Polo del Legno la riqualificazione dell'ex parco militare per creare una ludoteca per i giovani che servirà davvero a dare un altro impulso di vivibilità ai nostri luoghi. Bene, allora in bocca al lupo per tutti questi progetti che sono tanti, sono importanti e sono anche difficili insomma, però vedo che c'è determinazione. Assolutamente. Grazie per essere stata con noi e grazie ai nostri telespettatori per averci seguito. Alla prossima settimana. Grazie a tutti.